Vigor Trani più di un mese dopo la fine del campionato, non c'è più almeno in qualità di main sponsor Vito Epedico, c'è invece il presidente Luciano Sabi, è lui che ci sta mettendo la faccia e sta provando a dare continuità al calcio biancazzurro. Per adesso sono da solo al comando di questa associazione e sto provando a sistemare sia i fatti vecchi sia a costruire un qualcosa per il futuro. Adesso abbiamo dato la dimostrazione, ho dato la dimostrazione, adesso devo dire ho dato, siamo rimasti a tre anni, abbiamo fatto un bellissimo campionato da un punto di vista tecnico e stiamo avendo la gestione dello stadio per tre anni, per cui assicuro che per almeno tre anni la Vigor Trani sarà a Trani. A Trani c'è un fermento, comunque c'è voglia di calcio e questo è un fatto che in questi giorni mi ha dato dei segnali molto molto positivi, piccoli sponsor che si sono avvicinati e anche per il semplice striscione allo stadio, cosa che l'anno scorso era difficile anche parlarci. Gestione dello stadio, ok dunque, apertura ad allargare l'attuale base societaria praticamente scontata, incontri che nel frattempo si susseguono non solo con addetti ai lavori ma anche con possibili nuovi soci e sponsor. Capitolo allenatore, Savi ha chiesto la disponibilità a Gino Zinfolino a restare sulla panchina della Vigor ma... È chiaro, come ho detto negli incontri che sto avendo con gente che si vuole avvicinare, che è lungi da me confermare, ma nemmeno il magazziniere, nemmeno il segretario, perché è chiaro che entrando in un gruppo nuovo bisogna ribaltare tutto, bisogna mettere tutto sul tavolo e dire questi sono i fatti, questi scegliamo insieme, perché uno che entra, un direttore sportivo, un direttore generale deve avere la possibilità di scegliere perlomeno sia il mister, sia un segretario, sia un magazziniere. Che poi è normale che io, se mi sono trovato bene con quelli che avevamo quest'anno nel tavolo, dirò c'è Tizio, c'è Caio, che ne pensate, come si è comportato, come non si è comportato. Come atto dovuto Gino era una telefonata che dovevo fare, lui ha dato la disponibilità e quando sarà riferirò ai direttori che verranno la disponibilità di Gino. Una cosa sembra essere certa, il Trani che ha in mente Luciano Sabi non può accontentarsi nel prossimo campionato di eccellenza di una semplice salvezza.